Bentornati su Buvic TV, come vedete Daniela non c'è, mi ha lasciato solo nello studio e quindi dopo giusto un pezzettino di sigla incominciamo subito a raccontare quello che è successo nei giorni scorsi. Domenica 17 alle ore 17 presso il Palazzo Galeuta si è svolto il quarto appuntamento della rassegna Buena Vision Polonia con la proiezione del film Moi Nikifor. Sentiamo il curatore della rassegna Gianluca Nitti che ci ha lasciato giusto un piccolo intervento. Allora ciao a tutti, siamo qui per il quarto appuntamento con la rassegna Buena Vision dedicata alla Polonia, il film di oggi si intitola Moi Nikifor, è un film del 2004 del regista Christoph Krause. Allora questo film parla del rapporto di amicizia tra il grande pittore naif Nikifor e Marian Wlosinski, un giovane pittore che abbandonò la carriera e la famiglia per seguire il maestro ammalato di tubercolosi negli ultimi otto anni della sua vita. Non è soltanto un film che parla della vita di questo artista ma è un suo ritratto spirituale, in quanto Nikifor per gran parte della sua vita fu praticamente ignorato dagli abitanti della società Krinza in quanto analfabeta, in quanto considerato poco intelligente e addirittura incapace di esprimersi in quanto aveva un difetto fisico, cioè la lingua attaccata al palato. Soltanto negli ultimi anni ricevette gli onori che meritava, fu considerato un grande artista, fedele alla sua visione artistica, completamente impermeabile alle influenze e completamente immerso nella sua vita spirituale. La rassegna in lingua polacca, come vi abbiamo già detto, ha riscosto un mostro successo sia fra i tarantini che sono venuti numerosi, sia anche fra i polacchi che vivono a Taranto. Anche qui c'è stata una grande affluenza. Naturalmente dopo il film c'è stato il dibattito finale sull'argomento trattato. Sentiamo giusto un piccolo intervento che ci ha lasciato Teresa Bozze, che è la mediatrice interculturale in lingua polacca dell'Associazione Amity Simbiosi Moderne. Questi film, cosa siamo visti? Voglio molto avvicinare l'istoria nostro Polonia, dare e vedere come viviamo noi Polonia, dare e vedere che tutti i fatti iniziate da Polonia dopo sono portati altri paesi europei. Anche quando io una volta ho detto per la Costituzione Terzo Mai, quando ho detto per l'Unione Polonia-Lituania, sono fatti cosa dopo sono portati qua? Che con la prima Costituzione Polonia, seconda dopo Stati Uniti, altri paesi fatti anche in Costituzione, già preparata da parte nostra. Uguale Unione-Lituania-Polonia, cosa io ho parlato, dopo tanti paesi europei fatto Unione Europea. Questi nostri film avvicinato a noi, anche voi, anche questi artisti, artisti famosi, persone famose, cosa sono conosciute intero mondo. Siamo visti nostra natura, siamo visti i nostri monumenti e siamo visti tutto questo cosa tocca a Polonia. Il giovedì invece è diventato uguale e diverso. È giorno 21 alle ore 21, sempre al nostro Palazzo Galeota, al Cinecircolo Buvi, c'è stato proiettato il film El Nino Pez, un film argentino del 2009, della regista Lucia Poenzo, già famosa per il film XXY, che per avere il padre, il regista famoso, è premio Oscar con il film La Storia Ufficiale. Il film racconta la storia di Lala, una giovane dei quartieri più esplositi di Buenos Aires, innamorata di Guai, la ragazza delle pulizie di vent'anni, d'origine paraguaiana, che lavora a casa sua. Sognano di vivere insieme sulle rive del lago Ipoa, dove Guai è nata, ma le loro storie personali nascondono segreti e ambiguità. È un film che è una sop d'autore, un thriller mozzafiato, una storia d'amore esasperata e violenta, dove El Nino Pez è una storia vera, una leggenda, ma anche un sogno. Torniamo indietro nel tempo e andiamo a lunedì 18, quando è partito il terzo laboratorio di cinematografia che riguardava il montaggio digitale. Il laboratorio è organizzato dalle Acle di Taranto e si tiene in via Maturi 19, dal docente Francesco Chiatante, esperto del settore. Ma passiamo ai prossimi appuntamenti del progetto Buvish. Allora vi ricordo che per la rassegna Bonavision Polonia il giorno 24, alle ore 17, c'è l'ultimo film. dal titolo Yes Term. Vi ricordo che, visto che è l'ultimo film, appunto, ci sarà anche la degustazione di un piatto tipico polacco preparato dalla nostra mediatrice Teresa Bozek. Mentre il giorno 28, c'è un altro film della rassegna e quali diversi, dal titolo E' Quarto De Leo, un film che proviene dal circuito festivaliero. Vi ricordo inoltre che a breve partirà anche una nuova trasmissione su Buvish TV dal nome Paspartà condotta e scritta da Giacomo Scarfato, uno studente. E per oggi è tutto. Vi ricordo che potete seguirci sul nostro sito internet buvish.it, su Facebook, su Twitter e sul nostro canale YouTube. Ciao a tutti presto.